Continua il magic moment dell'SLZ solo fra basket. La formazione di coach Luca Iannacone conferma la vetta della classifica a quote 10 punti. Fondamentale nell'ultimo turno di campionato la vittoria interna contro l'AS Tiger con il punteggio finale di 78-69 con parziali di 18-23, 39-35, 57-50. Formazione che ha portato in doppia cifra tre elementi, Vietri 19 punti, Esposito 16 e Pellicano 15. Al termine del match il tecnico della compagine giallo-blu ha fatto il punto. Da squadra matura siamo riusciti comunque a non sopperire, anzi a reagire ogni volta nei momenti di difficoltà e alla fine penso che meritatamente abbiamo portato a casa questi due punti fondamentali in vista anche del prossimo impegno che ci vede a Cava di Tirreni. Con il massimo rispetto perché il livello è buono, il livello è alto, da parte nostra ci deve essere per fare quel passo, per essere veramente una grande squadra, avere l'approccio uguale a prescindere di quale può essere l'avversario. Non guardare la classifica ma guardare quelle che sono le nostre forze e utilizzarle sempre al massimo. Weekend che ha sorriso anche al basket club Irpinia di Cuccio Alessandro Marzullo sui legni del pala del Mauro di Avellino è arrivata la vittoria contro la SD Roccarainola con il punteggio finale di 70 a 57. Successo che porta a ferrare soci a quota 4 punti in classifica, secondo fine settimana di riposo forzato per le ragazze della Virtus Ariano Basket. La partita contro Basilica Basket Potenza è stata rinviata a data da destinarsi, gara in programma per domenica 14 novembre alle ore 18.30 al Palasport di Elenir Pino. Test al prossimo match a battivaia, vero e proprio scontro diretto per le ragazze di Cuccio Iovini. Test al prossimo match a battito